Sono state premiate a Palazzo Lascaris le otto classi vincitrici del concorso Diventiamo cittadini responsabili e consapevoli, diritti e doveri per tutti. L'iniziativa si è inserita nel programma degli eventi organizzati nella giornata internazionale delle persone con disabilità il 3 dicembre, a cura della consulta per le persone con difficoltà con le associazioni Diritti Negati, Volere Volare, Rete 119 e con il Centro Servizi Volontariato di Torino.